Attimi concitati questa mattina nella zona di Carbonara a Bari tra inseguimenti in auto e colpi di pistola. Erano all'incirca le 12 quando la polizia di stato è intervenuta su segnalazione della centrale operativa dopo l'avvistamento di un'auto che era stata rubata nei giorni scorsi nel capoluogo pugliese. Si tratta di una lancia musa di colore rosso. Una delle volanti raggiunto il veicolo ha imposto l'alta all'uomo che ne era alla guida ma quest'ultimo ha preferito darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento rocambolesco dove non sono mancati i tamponamenti. Gli agenti hanno quindi sparato alcuni colpi di pistola che hanno mandato in frantumi alcuni vetri dell'auto. A quel punto il fuggitivo ha fermato l'auto per poi far perdere le proprie tracce a piedi. Si sarebbe dileguato nelle campagne circostanti. L'inseguimento è terminato davanti all'ospedale di Venere. Negli attimi concitati dell'inseguimento un ispettore di polizia è rimasto lievemente ferito al braccio probabilmente per l'impatto tra la volante e l'auto inseguita. L'agente è stato soccorso al pronto soccorso di Venere. Nessun'altra persona è rimasta ferita. Ora è caccia al ladro d'auto in fuga.